Ciao ragazzi, benvenuti all'appuntamento con le stelle della settimana dal 9 al 15 di marzo la situazione astrologica attuale non è delle migliori, ce ne stiamo rendendo conto questi pianeti ci stanno dando delle bacchettate durissime sulle mani affinché tutti noi esseri umani a livello collettivo apriamo definitivamente gli occhi per renderci conto di quelle che sono le necessità, l'essenziale e quindi anche riscoprire tutta una serie di valori nuovi o tradizionali, mettiamola così per ritornare a riscoprire veramente quelle che sono le cose necessarie ma allo stesso tempo questi pianeti ci portano anche a capire dove sono tutte quelle situazioni che non funzionano più all'interno di un sistema, un sistema che deve cambiare un sistema che comunque sembrava forte ma in realtà è molto fragile sia a livello di politica che di giustizia ma anche di economia abbiamo questo Giove in congiunzione proprio da questa settimana farà una stretta congiunzione con Marte e inizierà una congiunzione verso la fine della settimana con Plutone il che significa che bisogna prendere e attuare delle contromisure proprio per arginare quella che è una situazione cambiando naturalmente quello che è il sistema un sistema fragile perché basato su un'economia fatta di numeri, numeri che in realtà non esistono sono numeri fittizi che appartengono a un qualcosa di errato nella scala dei valori e quindi questa venere oltretutto nel segno del toro in stretta congiunzione Aurano ci fa capire quali sono le necessità, le urgenze, le cose primarie quelle che non devono mai mancare e quindi gli occhi iniziano ad aprirsi su quelle che sono le garanzie tutto ciò che deve diventare una garanzia, tutte le necessità le cose primarie, le cose urgenti da sistemare anche a livello soprattutto lavorativo e politico ed economico, proprio perché il toro rappresenta quelle che sono le necessità, le finanze, le risorse detto questo abbiamo anche questo sole in transito nei pesci i pesci sono l'ultimo segno astrologico e da questa settimana il sole è in congiunzione a Nettuno ed essendo in congiunzione a Nettuno proprio in questa settimana quella sensazione di isolamento perché la dodicesima casa è la casa dell'isolamento è la casa dove noi esprimiamo delle emozioni che vagano però in un campo infinito e quindi anche cercare di mettere dei confini in uno spazio infinito diventa veramente difficile e lo stiamo vedendo tutti dal mio punto di vista si raggiungerà il punto massimo sia di psicosi a livello collettivo e a livello globale entro marzo tuttavia allo stesso tempo io penso che bisogna guardare a questa situazione non come a una punizione che arriva da chissà dove per castigarci ma in realtà bisogna vedere questa situazione come se fosse un'opportunità un'opportunità per fare leva su un sistema che non funziona più che non va più bene o un sistema che prima di innalzare quella che sarà la struttura nei prossimi anni l'abbiamo visto gli evolutivi i pianeti evolutivi sposteranno quella che è l'attenzione dai pianeti di terra a quelli d'aria e quindi sono gli ultimi colpi di coda di un lavoro che va che porta le persone a sistemare quelle ultime cose necessarie per poi innalzare la struttura della casetta io la vedo così poi ognuno è libero di pensarla come vuole e di esprimere anche il proprio parere non perdiamo però altro tempo iniziamo subito a parlare di come sarà questa settimana per il segno dell'ariete che è un segno in attesa di rinascere ed è tutto un ribollire di progetti, di situazioni che però possono anche portare a tutta una serie di rimpianti rimpianti per quello che non si è riusciti o non sei riuscito a ottenere e realizzare nei tempi che ti eri dato precedentemente si va un po' a fare tutta una quadra di tutte, mi è caduto il foglio di tutte quelle cose ecco che adesso riprenderlo e voilà scusatemi avete visto anche non ho la forfora di tutte quelle situazioni che si era preventivato adesso ritorniamo seri l'ariete e che negli ultimi mesi non è riuscito a realizzare si parla soprattutto di progetti è un periodo dove l'attenzione dell'ariete viene rivolta pressoché a quelle che sono le necessità ma anche al lavoro ci sono delle situazioni in atto che portano l'ariete a fare i conti con tutte quelle cose che devono portare necessariamente più garanzie allo stesso tempo però il fatto che questo sole si trovi ancora nel segno alle spalle non dà la possibilità all'ariete di esprimere al meglio il potenziale come vorrebbe esprimerlo lui e quindi allo stesso tempo l'ariete vive questa fase di preparazione come una fase impegnativa è piuttosto impegnativa questa settimana però ci sono ottime probabilità e ottime possibilità di ricevere quelle che sono delle conferme conferme attraverso quella che può essere una gratifica a livello professionale ed economica si può parlare di un rivedere quelli che possono essere i ruoli all'interno di una società c'è una preparazione in atto sempre da questa settimana che si apre con una luna piena nel segno della vergine da lunedì avviene anche quella fase che porta l'ariete a concretizzare perché questa è una fase di preparazione utile e necessaria per preparare di fatto il terreno sul quale poi dalla fine di marzo in avanti andrà un po' a costruire o a seminare questo ariete ed ecco che con questa settimana si aprono degli scenari molto interessanti che portano delle conferme conferme o di natura professionale o di natura economica attraverso anche quelli che possono essere dei cambiamenti e delle decisioni importanti da prendere il fatto che mercurio sia tornato così indietro per entrare nuovamente nel segno dell'acquario già dalla settimana scorsa e con la ripresa del moto diretto dall'11 di marzo che sarà mercoledì combinato proprio anche alla luna in opposizione tra mercoledì tra parte del martedì mercoledì e parte del giovedì segna quello che è un calcio d'inizio verso quei progetti che stai mettendo in sicurezza per la tua realizzazione personale ed ecco che proprio in quelle giornate grazie al ritorno di mercurio che torna a mettere il moto diretto vivrai quella che è una fase interessante di sblocco sblocco di quello che può essere la comunicazione potrai ricevere magari delle chiamate per dei colloqui potrai rivedere da vicino e meglio un progetto potrai mettere le cose in chiaro e dire alle persone che magari ruotano attorno a te a livello professionale o all'interno di un team di lavoro se stai lavorando a un nuovo progetto mettere in chiaro quelle che sono non solo le tue necessità ma anche fin dove puoi arrivare a livello di contributo e dove poi magari devi iniziare a mollare quella che è la presa perché non ce la fai e non puoi sostenere determinati ritmi è una settimana molto interessante che porta inizia a sbloccarsi qualcosina a livello emozionale anche a livello di progetti tuttavia dovrai ancora aspettare qualche settimana prima di riprendere in mano completamente il controllo della situazione i giorni più fastidiosi dal punto di vista proprio delle emozioni saranno la giornata di lunedì con questa luna piena che può portare anche la sensazione di fatica anche a livello fisico probabilmente ti spenderai molto a livello energetico così come le giornate di venerdì e sabato perché sono giornate di malcontento dove l'umore probabilmente ti tirerà qualche scherzetto e avrai come la tendenza in quelle giornate a vedere il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno per riprendere poi definitivamente il controllo delle emozioni nella giornata di domenica nei sentimenti in questa fase grazie alla congiunzione di venere e urano nel segno del toro ora più che mai la riete deve puntare su quelle che sono le garanzie garanzie che devono portare naturalmente le coppie a uscire da una fase di problemi se ci sono stati e a ottenere più conferme lavorando proprio su quelli che sono i problemi a livello proprio di coppie si può parlare di progettualità progettualità importante si possono fare piani per il futuro molto interessanti che portano le coppie a pianificare e a organizzare qualcosa nel concreto e quindi si può parlare di convivenze o proposte di convivenze andare magari a abitare insieme se la coppia è giovane ed è fresca così come a ritrovare quegli aspetti e quelle dinamiche di coppia che sono probabilmente venuti a mancare sul mese di febbraio per i single questo è un momento molto interessante perché si può parlare innanzitutto vabbè di colpi di fulmine oggi la mia comunicazione è andata a farsi benedire per i single dicevo si può parlare di colpi di fulmine ma allo stesso tempo quello che porta e invita i single a fare questa venere nel toro è puntare sulle garanzie e quindi siccome non è ancora arrivato il sole nel segno al momento i single possono essere ancora un po' confusi o tra una schiera di candidati magari di possibili candidati c'è dell'indecisione e non si sa ancora su chi puntare o su quale persona può darvi più garanzie anche la vostra ricerca di conferme a livello sentimentale può innalzare tantissimo le vostre difese o mettere troppi paletti che possono penalizzarti nella ricerca del partner ora più che mai invito i single ad aprire gli occhi a capire quali sono le necessità e a chiedere il giusto contributo in cambio rispetto dagli altri qualora ci fossero delle divergenze di opinioni ma anche proprio nel modo in cui tu reputi giusto proiettare quello che è un rapporto un sentimento in un rapporto a due il mio invito è con questa venere di non scendere a inutili compromessi pur di non restare da soli chiaro? benissimo parliamo adesso del segno del toro il toro in questa fase io lo vedo molto agevolato rispetto ad altri segni e grazie proprio a venere che si trova nello spazio zodiacale decongiunta a urano questa da questa settimana inizia tutta una fase di scelte di preparazione per il toro importantissima soprattutto per il lavoro o per le questioni che possono riguardare la casa c'è ancora questo mercurio retrogrado che è tornato temporaneamente in quadratura nel segno dell'acquario e che invita il toro a trovare delle soluzioni attraverso quelle che possono essere delle scelte importanti per riattivare il lavoro laddove c'è un problema o per ottenere più conferme se nel lavoro che hai attualmente non sei riconosciuto abbastanza a livello di valore sia economico che a livello personale o individuale c'è da dire però che allo stesso tempo queste condizioni che si creano nel tuo cielo parlano anche di scelte a livello sentimentale siamo di fronte a un toro che molto probabilmente in questa fase deve fare i conti con tutto quello che non ha e vorrebbe avere e di tutte quelle situazioni che devono cambiare a livello di relazione nella gestione venere di fatto vi agevola ma se ci sono dei problemi in atto può portare la soluzione a questi problemi attraverso le scelte così come arrivare a un certo punto dove la situazione collassa e quindi attenzione perché non siate precipitosi non siate impulsivi non non siate troppo non dovete quello in questa fase trarre delle conclusioni affrettate perché dal mio punto di vista avrai modo più avanti di valutare quelle che sono le situazioni che devono cambiare ma in questa fase è bene mettere in sicurezza tutto quello che si può mettere perché poi sulla fine di marzo arriva Saturno Saturno farà un lavoro di quadratura con il tuo urano e quindi tutto quello che ha a che fare con le scelte i progetti da rivedere sia a livello personale che a livello sentimentale e professionale o connessi alla famiglia e al lavoro vanno messi in sicurezza ora ed è quindi adesso il momento di tracciare quella che è una rotta per mettere al sicuro proprio questi progetti affinché possano portare più garanzie nei tempi tra virgolette scusatemi di magra che arriveranno tra marzo e luglio i pianeti di transito nel Capricorno in questo momento e parliamo di Marte congiunto a Giove così come la presenza di Plutone e di Saturno sono spinte importantissime spinte che ti invitano a rivedere o a rivalutare quello che è un vecchio progetto un vecchio sogno magari che hai messo temporaneamente nel cassetto e lo hai chiuso lì in attesa che i tempi fossero migliori ed ecco che in questa fase stimolato grazie a Marte nello spazio zodiacale del Capricorno ecco che in questa fase può aumentare puoi estendere quello che è il tuo braccio d'azione per ottenere più garanzie anche tornando o sviluppando quelli che sono i nuovi progetti così come a riprendere in mano un vecchio sogno o un vecchio progetto che hai tenuto nel cassetto per un po' si parla proprio di legittimarsi attraverso quelle che possono essere delle esperienze nuove e quindi io ci vedo anche l'inizio magari di un corso per il toro che in questo momento magari sente il desiderio di legittimarsi riprendendo in mano magari gli studi studi che aveva messo temporaneamente da parte e quindi vediamo un toro molto più indaffarato nella gestione e nella progettazione della sua vita per mettere in sicurezza sogni e ambizioni ambizioni con che possono essere realizzate grazie a un grande temperamento e a una grande determinazione uno spirito molto pratico che vi aiuta a ottenere quelle che sono le garanzie che al momento risultano però nella tua vita come delle mancanze e quindi vi aiuteranno questi pianeti a fare un balzo in avanti bellissima la giornata di lunedì grazie a questa luna piena che si forma nel segno della vergine e che porta proprio e invita il toro a tirar fuori il meglio per ottenere più garanzie attraverso quella che è un'idea un progetto un progetto creativo ambizioso sono proprio le ambizioni che in questa giornata irrompono sul palcoscenico della tua vita e attraverso quelli che possono essere gli stimoli magari anche non lo so dei consigli o delle tue percezioni ti invito a utilizzare la giornata di lunedì per metterti all'ascolto e captare o dall'esterno o dall'interno quelle che sono gli stimoli che ti invitano proprio a tracciare una nuova rotta per riprendere in mano la tua vita le giornate più stancanti e impegnative anche dal punto di vista organizzativo e nel lavoro saranno le giornate di martedì mercoledì e parte del giovedì queste giornate possono spegnere anche quello che è temporaneamente il tuo entusiasmo perché dovrai semplicemente gestire delle situazioni o delle richieste che arrivano dal mondo esterno e che ti portano a sottraggono di fatto tempo di qualità per la tua vita privata e anche per la tua legittimazione quindi probabilmente in quelle giornate dovrai mettere un po' da parte delle cose bellissima invece la seconda parte del giovedì così come le giornate di venerdì e sabato che portano nuove aperture nelle conoscenze più conferme e garanzie attraverso anche quelle che possono essere delle chiamate di lavoro degli incontri che farai così come possono arrivare delle conferme attraverso dei progetti che stai mettendo in cantiere e che trovano lo sblocco di queste conferme calcola che mercoledì 11 mercurio torna a riprendere il moto diretto nel segno dell'acquario e lì tutti quelli che possono essere stati i ripensamenti gli ostacoli che magari hai incontrato nella tua realizzazione personale ecco che vedrai come un rilascio molto potente sia a livello di notizie comunicazioni cioè proprio un flusso di comunicazione che ritorna prepotentemente dopo un periodo di assenza e di calma apparente che vi ha messo come in stand by nella giornata di domenica se puoi rilassati non frequentare luoghi affollati non soltanto per il momento storico ma perché potresti non essere in sintonia con l'ambiente circostante ritagliati del tempo per te stesso e vai a fare anche un po' più di quelle che sono le pulizie interiori anche inquadrando quelle che possono essere certe persone che in questo momento ti stanno un po' mettendo il bastone tra le ruote parliamo del segno dei gemelli che in questa fase che è comunque sempre impegnativa perché si parla della quadratura del sole sole in transito nei pesci che porta di fatto a un aumento di quella che è la posta in gioco soprattutto a livello professionale e nelle questioni che di riflesso sono connesse anche alla casa e alla famiglia ci sono dei problemi che invitano i gemelli a trovare quella che è una soluzione anche a livello economico e finanziario possono arrivare delle batoste tra virgolette a questi gemelli in base proprio alla mala gestione di quelle che possono essere le risorse a livello finanziario così come nella gestione delle questioni burocratiche che si è creato precedentemente quando è avvenuto il transito di Giove in opposizione nel 2019 adesso viene un po' tutto a galla tutte le le gabole che erano rimaste nascoste adesso affiorano e mettono a dura prova i gemelli gemelli che devono divincolarsi da tutti questi problemi rispetto alla settimana scorsa però c'è da dire che i gemelli sono un po' più agevolati grazie al transito di Mercurio che è uscito temporaneamente dalla quadratura per ritornare nel segno amico dell'acquario è ancora in moto retrogrado questo Mercurio perché si dovrà di fatto aspettare l'11 di marzo tuttavia proprio a quelli che possono essere i pensamenti situazioni che vi portano a rimestare in ricordi eccetera eccetera quello che farà di fatto questo Mercurio è aiutarvi a mettere sotto revisione proprio progetti e ambizioni così come i sogni per trovare semplicemente una soluzione a quelli che possono essere i problemi che state riscontrando nella vita di tutti i giorni e lì Mercurio dall'11 di marzo quando rimprenderà il moto diretto sbloccherà tutta una serie di situazioni che al momento sono rimaste in stand by soprattutto a livello professionale perché comunque poi su marzo continuerà entrerà di nuovo in quadratura nel segno dei pesci tuttavia sbloccando tutta una serie di flusso della comunicazione le idee tornano ad essere più brillanti più fluide ecco che vediamo un gemelli che ritorna temporaneamente a prendere in mano la propria vita tracciando una rotta per mettere al sicuro tutto quello che va necessariamente salvato nei progetti nelle idee nella realizzazione di alcune cose se avete trovato delle difficoltà o delle porte chiuse in questo momento ecco che dall'11 di marzo in avanti tutto si sblocca e potreste anche trovare quella che è una soluzione pratica ai problemi su quelli che invece sono i problemi connessi all'economia al lavoro alla casa un grande aiuto vi arriverà da questa luna piena che si forma nel segno della vergine nella giornata di lunedì è un inizio settimana però tuttavia molto faticoso per le emozioni allo stesso tempo però questa luna piena porterà delle soluzioni a questi problemi in essere connessi alla burocrazia alle finanze alla casa e alla famiglia grazie anche all'aiuto inaspettato da parte o di un parente o di una persona molto cara per voi quindi che ruota nella vostra vita privata un altro aspetto degno di nota è la congiunzione di urano con venere nel segno alle spalle che parla soprattutto di sentimenti ci possono essere in questo momento per i gemelli delle situazioni a livello sentimentale che non sapete più dove stanno andando e quindi si parla di sacrificio sacrificarsi anche a senso unico in questa fase io ci vedo vedo molto in bilico quelle che sono le coppie extra e quelle coppie che stanno in piedi così per grazia divina e che non vanno da nessuna parte da un bel po' di tempo perché allo stesso tempo proprio messo alla prova da queste quadrature i gemelli fanno un po' i conti con queste necessità che devono diventare delle garanzie e se c'è del malcontento a livello proprio di relazione a livello passionale a livello sentimentale ecco che questa venere fa emergere di fatto quelli che sono quello che è il sacrificarsi a senso unico in un rapporto e quindi alcuni nati del segno dei gemelli possono trarre delle conclusioni importanti che li portano a innalzare dei paletti e a difendersi da questa da queste situazioni quindi se vi rendete conto strada facendo che un sentimento non è più quello di un tempo e che poggia su un paradosso cioè non posso stare con te non posso stare senza di te e quindi dove stiamo andando ecco che lì i gemelli possono trarre delle conclusioni conclusioni che possono portare nel corso delle prossime settimane a chiudersi un attimo nel loro guscio per capire quali decisioni prendere per staccarsi energeticamente da tutto quello che sta diventando un problema o che non porta più nessun tipo di contributo proprio nella vita sentimentale per quanto riguarda i single così come le coppie fisse e stabili che non hanno di questi problemi ci sono delle situazioni che arrivano dal mondo esterno e che sottraggono tempo di qualità tempo di qualità sia per la coppia che probabilmente dovrà ritagliarsi e facendo il diavolo a quattro il tempo per stare insieme magari trovando anche quelli che possono essere degli incentivi e degli stimoli nuovi così come anche porterà questa venere i single a fare i conti con una mancanza di tempo e quindi la ricerca di quello che può essere un partner o un candidato ideale viene messa un po' tutta in secondo piano proprio perché la gestione o di familiari o di situazioni professionali che incalzano e sottraggono tempo di qualità passata la giornata di lunedì che a livello energetico è molto pesante con questa luna piena che vi rende estremamente fragili ed emotivi le giornate invece la seconda giornata di la seconda metà della giornata di martedì così come la giornata di mercoledì e parte del giovedì sono molto interessanti interessanti perché rivedremo quello rivedrete quello che è lo sblocco di un problema grazie a quelle che possono essere delle idee degli stimoli degli incentivi nuovi che arrivano e che vi aiutano a riprendere in mano la vostra vita se dovete fare delle richieste importanti per ottenere delle conferme muovetevi assolutamente nella giornata di mercoledì le giornate di venerdì e sabato sono giornate stancanti a livello fisico ma molto molto utili e interessanti per raggiungere quello che è un obiettivo a livello professionale probabilmente si parla di incarichi di nuova responsabilità che possono anche temporaneamente destabilizzarvi ma bisogna cogliere quello che è l'attimo e sfruttare tutte quelle che possono essere delle opportunità anche se non vi sentite all'altezza in questo momento quindi possono avvenire di fatto delle situazioni a livello professionale inaspettate in quelle giornate e che creano un po' di confusione ma se vi giocate bene il jolly sono anche delle giornate che vi permetteranno di essere molto visibili e più apprezzati a livello professionale nella giornata di domenica l'opposizione della luna vi porta ancora a fare un po' i conti con tutte quelle situazioni che sono in bilico e che devono cambiare tuttavia quello che dovreste fare dal mio punto di vista in questa fase se avete tanti problemi e non riuscite a gestire o a trovare delle soluzioni pratiche è quello di tagliare un po' i ponti con il mondo dedicare il tempo a tutte quelle che sono delle garanzie e delle necessità riscoprendo anche una certa qualità ma meno sono state in questa fase soprattutto domenica in luoghi troppo affollati e a livello energetico troppo stancanti come anche nelle situazioni familiari ad esempio se in famiglia ci sono dei problemi meglio è quindi nel fine settimana ritagliatevi del tempo solo per voi anche per riflettere per mettere sotto revisione un po' il tutto parliamo del segno del cancro che nonostante tutto continua ad essere messo alla prova è vero siete sostenuti dal transito del sole nel segno dei pesci che vi aiuta di fatto a tracciare quella che è una rotta per mettere in sicurezza sogni e ambizioni ma allo stesso tempo c'è un come un essere messi alla prova da situazioni che riemergono tornano ancora una volta in superficie e che vi portano a fare i conti con tutta una serie di situazioni che pensavate archiviate e risolte e che in realtà però non lo sono di fatto quindi l'opposizione di Marte in congiunzione a Giove e in stretta congiunzione poi lo sarà con Plutone un po' più avanti e ancora la presenza di questo Saturno in opposizione va un po' a riattivare tutti quei problemi che ci sono nelle relazioni professionali connesse anche a tutte delle questioni legali che magari nel corso degli ultimi anni vi hanno portato a fare i conti con una separazione con dei problemi connessi proprio alla giustizia e nei rapporti di lavoro ci vedo meno le relazioni a livello proprio affettivo anche perché questa venere è uscita di fatto dalla quadratura è però una quadratura che può aver portato le coppie tra gennaio e febbraio a fare i conti con una separazione quindi in questa fase ci vedo anche la gestione di tutti quei problemi che si sono creati tra gennaio e febbraio proprio nelle relazioni detto questo è una settimana che però grazie anche a questa venere congiunta urano nel segno del toro può portare delle soluzioni così come può portare l'arrivo di persone nella vostra vita che hanno la soluzione e così come a riprendere magari i rapporti se in una coppia si è arrivati alla frutta e al conto e al dessert e quindi se ci sono se si sono creati dei problemi molto pesanti nelle relazioni con questa opposizione di Marte la chiusura è bella che servita tuttavia le coppie che si possono ancora salvare grazie proprio a questa venere riusciranno a mettere in sicurezza il rapporto e più avanti ma non voglio creare illusioni a nessuno con il passare dei giorni questa venere può anche portare tutta una serie di ritorni con persone anche del passato però dal mio punto di vista il passato in questa fase ormai è andato ragazzi avete fatto il lavoro il più grosso del lavoro con Saturno è stato fatto quindi per me è da promuovere solo il nuovo e spostate l'attenzione su quelli che possono essere i divertimenti le iniziative le amicizie nuove perché è lì che dovete puntare lo sguardo voi dovete riprendere in mano la vostra vita attraverso quelli che sono dei nuovi progetti ora più che mai questo cielo vi sta dicendo tracciati una nuova rotta tracciati una strada nuova promuovi il nuovo non sostare solo per che hai tanto bisogno di ricordi di passato in una zona energetica che ti fa male il nuovo è da promuovere molla la presa su tutto quello che non ha funzionato nella tua vita e non è andato secondo le tue aspettative poi questo sole nei pesci vi sostiene e vi aiuta proprio a tracciare una rotta quindi possono esserci molti cancro in questa fase che sognano di riprogettare una vita nuova attraverso quello che è un trasferimento un cambio di città un cambio di lavoro così come alcuni cancro sentono il bisogno di legittimarsi a livello professionale o a livello personale attraverso quello che è il corso un corso o riprendere in mano degli studi questa è una settimana dal mio punto di vista molto interessante che porta comunque delle soluzioni a quelli che sono i problemi in essere però ripeto bisogna sempre promuovere quello che è il nuovo anche se questo nuovo questa novità dovesse irrompere nella vostra vita attraverso anche quella che è una situazione non preventivata e che vi invita a fare una scelta questo è un po' il quadro dell'andamento generale poi chi non ha problemi legali in essere con situazioni a livello sentimentale chi non ha problemi legali con il lavoro se non ha non ci sono problemi questa fase ti serve più che altro per mettere in chiaro determinate cose quindi sfrutta l'opposizione di Marte per ottenere quelle che sono più garanzie assumendo anche un atteggiamento diplomatico facendo di necessità virtù e quindi impara l'arte della diplomazia anche se con Marte in opposizione è molto difficile fai buon viso a cattivo gioco ma intanto di le cose come stanno per mettere in chiaro determinate cose soprattutto se si parla di ruoli a livello professionale così come situazioni nei rapporti condivisi con le altre persone la settimana è molto interessante soprattutto nella giornata di lunedì grazie a questa luna che diventa piena e diventando piena nel segno della Vergine è una luna che parla soprattutto che ti porta soprattutto o notizie o stimoli e incentivi nuovi che ti aiutano semplicemente a riprendere in mano la tua vita dove proprio attraverso quelle che sono delle scelte o delle soluzioni che ti aiutano a estendere quello che è il tuo braccio d'azione quindi non sottovalutare gli stimoli non sottovalutare gli incentivi non sottovalutare le tue sensazioni perché saranno amplificate in quelle giornate proprio per aiutarti a tracciare una rotta e a trovare una strada nuova per te un po' meno piacevoli saranno le giornate la seconda metà del martedì così come quella di mercoledì e giovedì perché la prima parte di giovedì perché la quadratura della luna porta ancora parecchia insofferenza situazioni che devono sbloccarsi e cambiare e un carico emotivo che si ripercuote a livello personale a livello familiare e nelle relazioni la seconda parte di giovedì così come le giornate di venerdì e sabato sono molto interessanti lì potrai veramente metterti in discussione fare delle richieste se stai pensando di chiedere delle cose a livello personale così come nei sentimenti avrai la possibilità di fare anche delle conoscenze nuove siccome avrai un ottimo un fortissimo ascendente sugli altri in quelle giornate dal mio punto di vista però è meglio non essere troppo non stare troppo sul piedistallo non usare quella che è l'arroganza perché con marte in opposizione è anche un attimo farsi dei nuovi nemici quindi usa tutta la diplomazia possibile immaginabile che conosci e sfrutta il più possibile quelle giornate cioè le giornate di venerdì e sabato così come parte del giovedì per ottenere delle conferme fare facendo delle richieste sia a livello personale che a livello professionale così come nei rapporti sentimentali siccome questo è un momento storico dove si oscilla parecchio anche a livello sia pratico che a livello emozionale nella giornata di domenica potresti sentirti molto stanco affaticato e il fisico può risentirne parecchio quindi dal mio punto di vista è meglio dare un taglio a tutte quelle cose energetiche che ti assorbono troppo e che non portano a nessun tipo di contributo né nel bene né nel male nella tua vita quindi impara a responsabilizzarti un attimo chiuditi un po' in casa riprendi il controllo anche del fisico che in questa fase può aver bisogno di nuove cure e attenzioni parliamo del segno del leone che in questa fase deve fare i conti con tutte quelle cose che bisogna sistemare e che vanno messe in sicurezza per ottenere più garanzie è un leone che può fare i conti temporaneamente con delle situazioni che spiazzano delle situazioni non preventivate e che lo portano a gestire tutta una serie di nuovi incarichi e una responsabilità maggiore che lo mettono alla prova è una fase però dal mio punto di vista che vi invito a sfruttare al massimo proprio perché grazie all'impegno profuso e al modo in cui andrete a gestire tutte queste queste situazioni non preventivate o a livello professionale o a livello familiare in realtà racchiudono quella che è una grandissima opportunità di crescita ma anche per ottenere quelle che sono più garanzie nel futuro e poiché nell'immediato futuro il leone farà i conti anche con l'opposizione di saturno questa fase è importantissima per ottenere più conferme e garanzie possibili per mettere in sicurezza tutto ora la quadratura di venere associata alla congiunzione con urano in transito nel segno del toro parla proprio di scelte scelte che possono portare il leone a prendere delle decisioni improvvise anche a causa di alcuni eventi o situazioni che parlano soprattutto di cambiamenti quindi possiamo essere di fronte a due tipi di leone il leone impaziente che scalpita e fa delle prende delle decisioni che possono anche portarlo a fare il passo più lungo della gamba e quello dal mio punto di vista è un leone che va tenuto ancora un po' a catena perché in questa fase di ripensamenti o di situazioni che non sono ancora poco chiare è meglio non essere così tanto precipitosi nel proprio stravolgere completamente quella che è la vostra esistenza nel lavoro così come nelle relazioni e nelle questioni che riguardano la casa e la famiglia poi invece possiamo essere di fronte a un leone che sta gestendo molto bene e rimane in perfetto equilibrio anche quando viene messo alla prova e che si sta dando un grandissimo da fare nel corso dell'ultimo anno ma soprattutto negli ultimi mesi si parla degli ultimi 8-9 mesi che stanno progettando quello che è un grande cambiamento proprio per legittimarsi ed ecco che in questa fase tutte queste situazioni che stanno si stanno verificando anche improvvise di fatto ti agevolano tantissimo nell'ottenere quei riconoscimenti grazie al cambiamento e il cambiamento è assicurato poi ognuno di noi ha una situazione astrologica personale che va al di là del semplice oroscopo ma sta di fatto che il cambiamento per alcuni segni è diventato necessario e siccome si andranno a fare i conti nei prossimi mesi con Saturno soprattutto i leoni che se lo trovano in opposizione ora più che mai questo cambiamento diventa necessario ed ecco che se sei un leone che appartiene alla seconda categoria e che ha promosso questo cambiamento lo desidera lo sta coltivando sta mettendo in sicurezza tutto ecco che già da questa settimana grazie al transito della luna nel segno della vergine che diventa piena nella giornata di lunedì ecco che possono arrivare quelle conferme che stavate aspettando possono tuttavia ripeto generarsi delle situazioni improvvise che possono anche spaventare temporaneamente o mettere magari il leone in questo momento non si sente ancora del tutto all'altezza per gestire alcune cose e quindi magari fa anche un passo indietro però allo stesso tempo si creano quelle occasioni inaspettate che racchiudono delle grandi opportunità per ottenere più conferme quindi mi raccomando con prudenza ma cogliete tutto cogliete l'attimo e tutte le opportunità che arrivano c'è da dire però che allo stesso tempo il leone inizia comunque a percepire un certo carico di stanchezza a livello fisico il leone ora più che mai sta facendo i conti con quelli che possono anche essere i propri limiti e se sta dando il tutto e per tutto arriva alla sera con la lingua sotto i piedi quindi mi raccomando anche in questa fase se sei uno di quei leoni che a livello energetico ti stai spendendo troppo e ti stai rendendo conto che non sei fatto di ferro ecco che in questa fase de-responsabilizzarsi un attimo o puntare tutto su quello che è il trovare un team di lavoro o delle persone che possono agevolarti a livello professionale tutto quello che può aiutarti a de-responsabilizzarti e a alleggerire il carico in questa fase è la situazione è la soluzione migliore proprio perché potresti vivere ancora tutta una fase su marzo che prosciuga tutte le tue riserve emotive ma soprattutto fisiche quindi mi raccomando trova il modo per gestire tutto senza farti invadere dal mondo esterno e dalle richieste degli altri se ti accorgi che stanno chiedendo troppo frena Ugo detto questo la settimana è molto importante già da lunedì barra martedì per ottenere dei riconoscimenti le giornate di mercoledì e parte del giovedì sono molto interessanti per ricevere delle notizie sbloccare una situazione ottenere attraverso quelle che possono essere delle conoscenze nuove più garanzie che racchiudono delle opportunità si può parlare di chiamate di lavoro colloqui perché tutto si risblocca anche grazie a questo mercurio che torna a riprendere il moto diretto da mercoledì 11 e quindi tutta quella sensazione anche di stallo e di attesa nelle comunicazioni nelle conferme a livello professionale ecco che da mercoledì in avanti torna tutto in aspetto armonico e arrivano le notizie che stavate aspettando venerdì e sabato sono giornatine da prendere con le pinze soprattutto a livello emozionale e nelle questioni connesse alla famiglia e alla casa per ottenere sulla giornata di domenica invece un grande stimolo e impulso attraverso il passaggio della luna che entra nel segno amico del sagittario e che vi aiuterà di fatto a sbloccare anche le emozioni trovando un po' più di coraggio ma anche attraverso quello che è un nuovo atteggiamento che ti aiuterà a prendere di petto una situazione nelle relazioni venere in quadratura nel segno del toro in congiunzione aurano può portare soprattutto freddezza freddezza in quelle coppie che ad esempio devono gestire delle situazioni o professionali o comunque dal mondo esterno a livello familiare che sottraggono tempo di qualità e quindi quello che scarseggia è il tempo ma non hai neanche quella che può essere la testa per metterti lì a gestire insomma le lenzuola si sono un po' raffreddate in alcuni casi la quadratura di venere congiunta urano può portare dei colpi di testa per persone nel lavoro o per altre persone questo è un cane chiedo scusa lasciamolo abbaiare e la quadratura di venere può portare anche a innamorarsi o a perdere la testa allora a perdere la testa per persone che non sono che fanno parte dell'ambiente di lavoro o che non sono proprio così pronte per allacciare dei rapporti e quindi ci si può creare magari qualche alibi in più ecco attenzione soprattutto anche ai single in questa fase perché possono prendere degli abbagli non è tutto oro ciò che luccica c'è da dire che se regna sovrana l'insoddisfazione nelle coppie e non ci sono più gli incentivi gli stimoli di una volta questa venere in quadratura può dare quello che è un antipasto di quello che accadrà poi nei mesi successivi quando poi Saturno entrerà di fatto in opposizione nel segno dell'acquario e questo Saturno porta a un taglio di tutte quelle relazioni di tutti quei rapporti che non appoggiano più su un basamento stabile che non portano più nessun tipo di garanzie nella tua esistenza quindi mi raccomando prendete bene le decisioni non fate il passo falso perché in questa fase tutto quello che va messo in sicurezza deve essere messo lì al sicuro nei forzieri tutto quello che non poggia più su delle garanzie stabili e che non porta più nessun tipo di conferme dovete gestirlo con le pinze anche allontanandovi e prendendo delle decisioni qualora fosse necessario difendersi parliamo del segno della Vergine che questa settimana recupera qualche posizione in più in classifica anche perché è sostenuta dal transito di Venere nel segno amico del Toro e la presenza poi naturalmente di tutti quei pianeti nel segno del Capricorno agevola parecchio la Vergine Vergine che però deve fare anche i conti e sta facendo i conti con l'opposizione solare nel segno dei pesci sole che questa settimana si congiunge a Nettuno nell'opposizione solare avviene una fase di controbilanciamento perché a sei mesi del compleanno il sole si trova nel punto più lontano del nostro cielo nel nostro sole e quindi siamo alle prese con questa fase di controbilanciamento che può essere molto stancante perché di fatto il sole non riesce ad arrivare tutto con la sua carica e invita la bilancia invita la Vergine a prendere delle decisioni che possono portare l'archiviazione di un qualcosa per liberarla da quelle che sono tutti quei progetti quelle cose che non sono andate stando alle aspettative che di fatto stanno appesantendo la Vergine e quindi avviene quella sorta di chiusura di tutte quelle cose che non vanno più bene per promuovere le cose nuove e alleggerirvi il più possibile ripeto è una settimana molto interessante perché siete più sostenuti e quindi a livello energetico avete la possibilità di smuovere delle cose ma anche di ricevere delle conferme importanti perché questa settimana inizia lunedì con la luna piena proprio in tuo onore nel tuo spazio zodiacale si forma la luna piena è una luna che va a chiudere un portale che si è aperto con la luna nuova di febbraio nel segno opposto e che adesso va un po' a chiudere quello che è il cerchio agevolandoti dove? proprio in quel lavoro di controbilanciamento aiutandoti anche a trovare quella determinazione e quel coraggio di prendere quelle decisioni necessarie per archiviare e promuovere solo le cose che possono portare ad oggi più garanzie e quindi non andare più a insistere e a investire tempo risorse in quelle cose che non portano più nessun tipo di contributo nella tua esistenza venere venere nel segno del toro in congiunzione a urano parla soprattutto di scelte scelte che devono portare la vergine a tracciare una nuova rotta per legittimarsi e qui siamo di fronte probabilmente a una vergine che è alla ricerca di tutti quei settori che devono portarla a fare i conti con quelle che sono le necessità situazioni che devono portare sicuramente delle conferme ed ecco che alcuni nati del segno possono mettersi in discussione in questa fase attraverso quello che è l'inizio magari di un corso fare la scelta di quello che può essere l'inizio di un corso per legittimarsi e rivendersi meglio a livello professionale così come alcune vergini possono prendere in considerazione l'idea di rispolverare qualche vecchio progetto o qualche materia che avevano lasciato chiusa in un cassetto e quindi c'è un ritorno magari a mettersi sui libri studiare quella che è una nuova materia una nuova lingua per legittimarsi ma c'è anche tutto un discorso molto più profondo in realtà che mette la pulce nell'orecchio alla vergine e che si sta chiedendo quale possa essere il suo posto nel mondo posto che può essere inteso come posto fisico e quindi si può parlare di pensare e valutare quello che può essere un trasferimento attraverso un cambio di vita anche radicale così come a individuare quello che potrebbe essere il tuo nuovo ruolo nel mondo anche a livello professionale perché ripeto questa è una fase di preparazione importantissima per quelle che saranno le scelte nel 2020 che voi prenderete proprio a livello professionale connesse alla professione e quindi si parla di legittimarsi capendo anche quello che sarà il nuovo ruolo nel mondo attraverso un cambiamento un cambiamento molto importante mercurio da questa settimana non è più in opposizione perché è tornato talmente indietro con il motto retrogrado da essere temporaneamente nel segno dell'acquario in questa fase mercurio soprattutto da questa settimana dall'11 di marzo riprendendo il motto diretto vi aiuterà a liberare innanzitutto a schiarirvi un attimo le idee e quindi vi aiuterà a ridistribuire meglio pesi e misure nelle scadenze nelle questioni connesse al lavoro che vi portano l'acqua alla gola eccetera eccetera ma allo stesso tempo vi aiuta a mettere sotto revisione tutti quei progetti tutte quelle idee che devono necessariamente portare più garanzie e dopo che sono stati messi sotto revisione adesso mercurio libererà tutta quell'energia che ha portato un blocco temporaneo anche mettendovi in assenza di risposte aiutandovi proprio a ottenere quelle quel tipo di risposte chiedo scusa è una settimana non c'ho niente è raffreddore quello che farà questa settimana anche il transito di Marte che si congiunge a Giove nel segno del Capricorno è quello di aiutarvi a tirar fuori tutta quella determinazione e quel coraggio e a sviluppare quelle che sono le vostre le vostre idee i vostri sogni si parla di un progetto molto creativo importante che adesso torna alla ribalta quindi quello che dovreste fare in questa fase è di mettervi all'ascolto di quelli che sono gli impulsi gli stimoli e gli incentivi che possono arrivare dal mondo esterno e quindi attraverso magari quella bellissima venere nel toro che vi aiuta a estendere il braccio d'azione attraverso quelle nuove conoscenze che vi indirizzano sulla nuova strada da seguire così come alcuni stimoli e incentivi e impulsi possono arrivare dall'interno e quindi mettetevi all'ascolto e date soprattutto peso a quelle che sono le percezioni le sensazioni non lasciate nulla al caso e nelle giornate oltretutto di venerdì e sabato possono arrivare delle conferme attraverso delle notizie attraverso delle chiamate attraverso degli spostamenti che parlano di nuove opportunità se alle prese con degli esami che devi sostenere o dei colloqui ecco che questa venere ti può agevolare tantissimo poi è vero adesso hanno pure chiuso le scuole per cui è tutto in stand by però vediamo come va a finire entro il mese di marzo comunque questa venere vi agevola tantissimo anche nella comunicazione l'unica giornata no della settimana sarà domenica che con la quadratura della luna torneranno a galla quelle malinconie quelle quelle emozioni anche discordanti tra loro che portano un po' di insicurezza nelle emozioni in quella giornata circondati di quelle persone che ti fanno stare bene che ti fanno sentire a posto con te stesso quindi evita di sostare in luoghi o situazioni che a livello energetico ti sottraggono molta qualità nelle relazioni alcune relazioni possono ancora essere sul chi vive e quindi si può parlare di un grande recupero emozionale trovando quella che è la soluzione un punto di incontro in quei rapporti che hanno subito un contraccolpo nelle ultime settimane ma si può anche parlare di situazioni completamente nuove che arrivano attraverso quello che può essere una conoscenza improvvisa non voglio parlare di colpi di fulmine perché vabbè ci credo poco al colpo di fulmine però possono esserci degli incontri in questo momento che vanno un po' anche a spiazzare soprattutto quelle persone che hanno già una relazione fissa e stabile che poggia magari su un basamento instabile ed ecco che possono arrivare delle sorprese nelle conoscenze che portano un po' di scompiglio soprattutto a quelle coppie che sono in bilico che sono già lì lì pronte per cadere così come si possono trovare delle soluzioni a quei problemi che vi hanno messo in crisi nelle ultime settimane ottimo invece il transito di venere per i single che porta nuove conoscenze l'amore può arrivare anche da paesi lontani o attraverso quelli che possono essere dei corsi di aggiornamento delle riunioni di lavoro ci sono degli incontri che vi agevolano tantissimo quindi ora più che mai invito la vergine a cogliere queste occasioni a sfruttare il momento positivo per mettersi in discussione e per ottenere molte più garanzie e conferme nel corso del prossimo futuro parliamo del segno della vergine che inizia un po' questo cielo a mettervi ancora un attimino alla prova è vero sono arrivati i rinforzi strada facendo marzo tuttavia è ancora un mese che può portare ancora qualche piccola difficoltà e noia da gestire marte in quadratura nel segno del capricorno da questa settimana in congiunzione a giove porta a galla tutte quelle situazioni che sono state mal gestite nel corso degli ultimi anni soprattutto a livello professionale ma connesse più che altro alla famiglia quindi se fai parte di quei bilancia che hanno avuto tutta una serie di problemi per questioni connesse alla casa alla famiglia all'eredità alle situazioni legali eccetera eccetera ecco che questo marte può portarvi a fare i conti per trovare quella che è una soluzione soluzione che già da questa settimana può arrivare in modo tutto improvviso complice il rapporto con o un familiare che cambia completamente atteggiamento e ti agevola così come possono potrai fare delle conoscenze nuove che ti agevolano parecchio nel trovare quella che è una soluzione pratica a tutti quei problemi che sono connessi alle questioni burocratiche ai rapporti condivisi nelle questioni ad esempio societarie se hai fatto il passo più lungo della gamba ecco che questa settimana possono arrivare delle soluzioni importanti che ti agevolano o temporaneamente aiutandoti e permettendoti di prendere fiato oppure in modo significativo per chiudere quello che è un rapporto e anche una condizione che stava diventando insostenibile io che ci vedo lo zampino più che altro in questo momento sono tanto le indecisioni che possono ancora mettere alla prova la bilancia che deve trovare quel coraggio per staccarsi da tutte quelle situazioni che non vanno più bene è un discorso che io ho già fatto negli altri oroscopi e che torno e condivido ancora il periodo quello più difficile è passato sebbene poi nella seconda parte del 2020 la bilancia verrà nuovamente messa alla prova un'ultima volta per valutare se è in grado di stare in piedi da sola oppure no tuttavia quello che io sostengo e penso è che in questo momento la bilancia stia usando tutta una serie di contromisure o atteggiamenti che appartengono a situazioni del passato e che oggi non vanno più bene quindi è inutile insistere se la risposta è sempre no bisogna andare altrove a cercare quelle che sono le garanzie cambiando magari atteggiamento perché è inutile che ci arrediamo il tunnel e stiamo lì ad aspettare che arrivi la piscina per poter fare le vacanze nel tunnel perché non è così ora questi pianeti di transito che stanno nel capricorno che stanno portando stanno facendo emergere delle nuove situazioni o delle vecchie situazioni che non sono state archiviate quelle situazioni vanno gestite con un nuovo atteggiamento non con le stesse con lo stesso atteggiamento del passato perché quello non va più bene perché potreste ottenere la stessa risposta che avete ottenuto in passato e quindi crearvi un nuovo problema nei rapporti condivisi nelle situazioni societarie nei rapporti nei progetti di lavoro nelle questioni familiari nelle questioni connesse alla casa in questo momento se ti stai rendendo conto che sta tornando e stanno tornando alcune difficoltà che già tu conosci devi cambiare atteggiamento e mostrare qualora fosse necessario anche i dentini per difenderti perché ora più che mai questo Marte in quadratura nel segno del Capricorno ci dice che e ci dice perché mi ci metto dentro pure io che la struttura è quasi pronta e adesso devi difenderla questa struttura non puoi permetterti di mettere in pericolo il lavoro che hai fatto quindi c'è ancora un innalzare le difese per mettere in sicurezza tutto il lavoro che hai fatto questo è un po' il comune denominatore e non permettere a nessuno a niente e a nessuno di far crollare quella che è questa struttura ora gli aiuti arrivano e calcola che questa è una fase dove sei chiamato a mettere in sicurezza proprio tutto quello che appartiene a un progetto a un'idea a una situazione che parla proprio di aiutarti a trovare quelle che sono delle dei cambiamenti da attuare perdono oggi con la comunicazione aiuto aiuto quindi mi raccomando in questa fase devi se hai messo sotto revisione un progetto se hai messo sotto revisione un'idea se stai aspettando delle risposte tieni tutto in caldo non essere precipitoso non essere impulsivo che arrivano le soluzioni e questa settimana ad esempio già nelle giornate centrali della settimana fino a mercoledì possono veramente arrivare delle conferme sorprendenti che ti aiutano a capire cosa devi fare e ti liberano da una situazione che è diventata un ostacolo quindi sfrutta più che puoi queste condizioni e queste situazioni che ti agevolano tantissimo aiutandoti a trovare anche una soluzione una soluzione pratica dopodiché quando hai tutto sotto controllo agisci poi calcola che chiedo scusa questo mercurio che è tornato così indietro temporaneamente per ritornare nel segno dell'acquario e da mercoledì riprende il moto diretto dall'acquario ti libererà parecchia energia che è rimasta in sospeso quindi non sarai più indeciso non te intenderai più avrai sicuramente le idee più chiare quindi una volta che si stanno sistemando le cose che riesci a ridistribuire pesi e misure anche nelle responsabilità perché devi fare i conti con quelli che sono i tuoi limiti una volta fisici ma anche mentali una volta che tu hai messo tutto in sicurezza che hai tutte le garanzie possibili e immaginabili poi sulla seconda metà della settimana agisci prendendo anche delle decisioni perché ripeto questa venere nel segno del toro quello che fa emergere sono i limiti ma anche i tuoi nemici che possono appartenere al tuo mondo interiore così come a tutti gli aspetti a tutte quelle persone che hanno a che fare con te nella vita di tutti i giorni quindi si parla di un gruppo di lavoro si parla di soci si può parlare di famiglia di alcuni legami familiari alcuni legami anche sentimentali che rappresentano un ostacolo e un limite cioè oggi cadono quelle che sono le maschere di alcune persone rivelano la loro vera natura e lì tu devi prendere atto che sei cambiato devi usare nuovi strumenti per difenderti per liberarti definitivamente di un problema perché poi su aprile cambia tutto completamente quindi fai in modo di arrivare verso la fine di marzo e aprile il più leggero possibile mettendo in chiaro quelle che sono le tue necessità e non permettere a nessuno di farti fare un passo indietro verso te stesso mettendo a rischio il lavoro che tu hai fatto questo è importantissimo la settimana ripeto è molto interessante soprattutto nella prima parte perché avvengono quelli che sono gli sblocchi e le conferme poi arrivano sulla seconda metà della settimana possono anche arrivare notizie e chiamate di lavoro che ti agevolano parecchio tuttavia se devi discutere di quelle che sono le tue condizioni se devi fare chiarezza se devi mettere le cose in chiaro se devi fare delle richieste importanti usa le giornate dopo mercoledì fino a venerdì e sabato puoi mettere in chiaro quelle che sono le tue necessità e quindi sfrutta l'occasione per quanto riguarda invece il discorso sentimentale questa venere nel toro in congiunzione a urano vuole la ciccia vuole divertirsi ma vuole anche qualche garanzia e possiamo essere di fronte a soprattutto quelle bilance che stanno in coppia e che stanno vivendo tutta una fase probabilmente di pesantezza che in alcune situazioni può anche aver portato su febbraio delle rotture soprattutto per i nati di terza decade che hanno avuto a che fare con la congiunzione di venere con saturno e con plutone ecco che adesso o si trovano le soluzioni e si manda avanti cambiando atteggiamento quello che è un rapporto per ottenere più garanzie altrimenti si archivia e si va altrove ok e questa fase può portare e può agevolarvi parecchio negli incontri ma attenzione perché questa è una venere che ama sguazzare nel torbido e che vuole può portare anche qualche situazione pericolosa soprattutto perché per quelli che non hanno il coraggio di dire basta di dare un taglio a quelle che sono quelle relazioni che non vanno più bene possono crearsi delle situazioni che portano a delle relazioni extra o a mettere a tenere il piede in due scarpe e questa cosa non va bene perché poi a lungo andare pagherete il dazio dopo quindi io eviterei se fossi in voi per le coppie fisse e stabili che stanno benissimo non hanno avuto nessun tipo di contraccolpo nelle ultime settimane si parla di trovare nuovi incentivi ma anche di rompere qualche tabù quindi non siate bacchettoni divertitevi promuovete il divertimento rompendo qualche qualche rigida condizione che avete posto voi magari mesi o anni fa quindi se avete detto no io quella roba lì non la faccio adesso invece è arrivato il momento di farlo e promuovere i divertimenti trovare nuovi incentivi per i single invece questa venere ci dice più che altro di non puntare tutto su quelle che sono troppe troppo le conferme le garanzie da chiedere in cambio innanzitutto prima di chiedere in cambio delle garanzie agli altri valutate qual è il vostro contributo cioè che cosa siete disposti a dare o a perdere in caso di poi eventualmente puntate tutto sui divertimenti senza farvi troppe menate perché non escludo che tutti i rapporti che nascono adesso nel nome dell'eros o prettamente sotto le lenzuola possano poi di fatto nel corso delle prossime settimane trasformarsi in qualcosa di più concreto e di più importante parliamo del segno dello scorpione che in questa fase in questo momento astrologico è sostenuto dal transito del sole nel segno dei pesci che da questa settimana peraltro si congiunge anche a Nettuno quindi il comune denominatore di questo cielo è proprio quello di tirare fuori il meglio di sé dare il meglio anche attraverso quelle che possono essere le idee i progetti che state mettendo in cantiere così come c'è un'ondata nuova di creatività c'è un bisogno di riprendere in mano quello che è un progetto un sogno che avete tenuto in caldo per parecchio tempo per promuovere che cosa? il cambiamento il cambiamento laddove è diventato necessario soprattutto in determinati settori di vita ma allo stesso tempo però lo scorpione si sta avviando verso una fase che parla di un nuovo ciclo che proprio dalla fine di marzo prende forma e inizia a un po' a chiudere quello che è un cerchio e che spinge di fatto lo scorpione a prendere atto che alcuni cambiamenti nella propria esistenza sono in realtà diventati necessari allo stesso tempo però lo scorpione deve anche fare tutti i conti con una serie di situazioni che lo portano ad usare una velocità o a pretendere dagli altri delle cose che al momento non possono dare e quindi la velocità intesa proprio come tempi nei tempi delle risposte degli altri nei tempi di reazione degli altri ma anche i tuoi tempi devi imparare a rispettare quelli che sono i limiti i limiti degli altri ma devi dare un freno anche a quella che è il tuo bisogno di avere tutto subito perché in questa fase ci sono dei pianeti che ti stanno spingendo talmente tanto che hai un modo di fare e hai anche delle esigenze delle urgenze che ti spingono ad accelerare i tempi a forzare le cose per ottenere delle garanzie e questa è una situazione che può diventare estremamente delicata e pericolosa se sfruttata male perché poi nel corso delle prossime settimane vi potete rendere conto che in realtà era meglio usare un po' più di prudenza soprattutto nelle scelte quindi siccome c'è un'opposizione di veneri in questo momento di transito nel segno del toro che si congiunge a urano lì i nati del segno dello scorpione soprattutto quelli di prima decada e sentono l'urgenza il momento in calza nel prendere proprio quelle che sono le decisioni nelle situazioni professionali così come anche nelle relazioni abbinato a tutti i pianeti di transito nel segno del capricorno che spingono e continuano a riempirti la testa di idee di determinazione ti stanno come prendendo anche quasi a spallate per farti capire che è arrivato il momento però siccome ci sono alcuni nati del segno che dal mio punto di vista stanno usando questa velocità in modo sbagliato ora più che mai bisogna fare i conti con tutto quello che è possibile fare e da mettere in salvo onde evitare di perdere tempo prezioso e per poi rischiare quando arriverà Saturno alla fine del mese che farà una stretta congiunzione una stretta quadratura perdona con Urano lì poi possono succedere delle cose che vi portano a rallentare e a fare un passo indietro quindi onde evitare di creare delle situazioni che poi diventano di fatto incontrollabili al momento il mio invito è quello di andare molto cauti quello che è importante in questa fase è mettere al sicuro tutti i progetti le ambizioni i sogni che sono realizzabili tutto quello che invece poggia su un basamento instabile o che non è fattibile per mancanza di soldi per mancanza di risorse per mancanza di tempo quello va messo temporaneamente da parte potrai dedicarci tutto il tempo dopo ma per il momento è essenziale ed è necessario mettere a riparo tutto quello che deve portare di fatto delle garanzie un po' come gli animali quando sta per arrivare all'inverno e fanno le scorte la stessa cosa la devi fare anche tu imparando a controllare quella che è la velocità dei tuoi impulsi altra cosa questo sole in transito nel segno dei pesci che ti sta sostenendo potrebbe temporaneamente farti assumere degli atteggiamenti in combo con Marte nel Capricorno potrebbe farti assumere dei atteggiamenti boriosi e quindi il rischio è quello di crearsi anche dei nemici di fare un po' di terra bruciata attraverso degli atteggiamenti che le persone ti fanno notare che non si fa proprio così siccome da questa settimana Mercurio che è tornato temporaneamente in quadratura nel segno dell'acquario e ha ancora un moto retrogrado quindi potrebbe esserci ancora un po' di perplessità ancora il bisogno magari di rimettere sotto revisione delle cose di perfezionare alcune cose sfrutta questa fase questa prima parte della settimana per mettere in sicurezza tutto quello che devi proteggere per poi dalla seconda metà della settimana in avanti quindi dall'undici di marzo quando Mercurio riprenderà il moto diretto dall'acquario lì potrai ottenere delle risposte delle conferme delle garanzie e velocizzare un attimo la cosa però dal mio punto di vista il comune denominatore proprio la cosa essenziale nel momento è quella di non forzare troppo le cose onde evitare di pagare poi un prezzo salato dopo quando le cose prenderanno una forma diversa è l'opposizione di questa venere ci parla però di scelte scelte che sono diventate necessarie da prendere soprattutto se nei rapporti professionali così come nei rapporti sentimentali non stai ottenendo più quelle garanzie che pensavi di avere o di ottenere e quindi in questa fase il concetto è che lo scorpione deve prendere atto che sono arrivate è arrivato un momento dove alcune scelte sono diventate necessarie e indispensabili e per invece quelli che per quegli scorpioni che stanno lavorando molto bene e hanno promosso il cambiamento senza forzare più di tanto le cose si sono allineati al proprio progetto di vita e hanno iniziato a tracciare quella che è una rotta mettendo in sicurezza quelle cose che vi dicevo prima già dal 2019 ecco che questa venere può portare delle opportunità molto interessanti quindi bisogna sempre capire poi sul singolo come agiscono questi pianeti ma a livello generale questa fase è di preparazione e diventa molto importante per ottenere più garanzie dopo quando verrete messi alla prova da Saturno la settimana è bellissima soprattutto nella giornata di lunedì quando la luna diventa piena nel segno della vergine e forma un'opposizione con il sole di transito nel segno d'amico dei pesci e lì di fatto possono arrivare possono prendere forma quelle conferme che stavate aspettando da tempo e che vi daranno la possibilità di legittimarvi si può parlare di entrare a far parte di un nuovo gruppo di lavoro si può parlare di un progetto nuovo che inizia si può parlare di nuove idee molto feconde che portano lo scorpione a riprendere lo invitano a riprendere in mano la sua vita attraverso dei cambiamenti o delle idee che deve mettere deve sviluppare le giornate invece di mercoledì così come parte di giovedì sono particolarmente delicate soprattutto nella comunicazione e in quelle giornate attenzione perché potreste andare troppo veloci e quindi non mantenere quelle che sono le distanze di sicurezza con gli altri così come potreste anche pretendere troppo dagli altri e in questa fase potreste anche crearvi dei nemici se non rispettate quelli che sono i tempi quindi mi raccomando in quelle giornate ponderate molto bene le parole soppesate tutto e se potete prima di parlare contate almeno fino a 10 barra 20 poi di tutt'altra energia e di tutt'altra stoffa saranno invece le giornate di venerdì e sabato grazie alla luna che entra nel tuo spazio zodiacale e che rilascia parecchia energia energia che verrà ridistribuita in quei settori dove adesso fai ancora un po' più di fatica e quindi assumerai magari un atteggiamento un po' più individualista sarai molto più aperto anche a conoscere quelle che sono le persone nuove sarai più determinato sarai più più entusiasta sarai più più positivo gestendo poi tutta una serie di situazioni in modo corretto quindi venerdì e sabato sono giornate molto belle e che possono portare anche dei nuovi incontri o situazioni dove potrai arrangiare quelli che sono i problemini che stai riscontrando magari nelle relazioni assumendo anche un atteggiamento diverso la giornata invece di domenica dal mio punto di vista è una giornata che deve invitarti alla riflessione a capire un po' come ridistribuire pesi e misure non solo nel cuore ma anche proprio nelle scadenze nelle questioni che appartengono magari al lavoro ai rapporti in generale quindi è una giornata dove il mio invito e l'invito della luna è proprio quello di decelerare un attimo dare magari anche un po' più spazio un po' più di spazio al recupero fisico al corpo alle attenzioni la cura per il corpo perché in questo momento potresti accelerare parecchio e consumare parecchie energie nei rapporti sentimentali l'opposizione di venere può portare anche essendo in congiunzione aurano situazioni improvvise così come alcune chiusure di determinati rapporti improvvise soprattutto nei rapporti che non non danno più garanzie che non portano più nulla mentre invece per le coppie fisse e stabili si parla di grandi progetti che riguardano proprio la coppia si può parlare di convivenze si può parlare di proposte importanti c'è una certa progettualità che riparte che riprende quindi dopo un periodo di spegnimento adesso questa venere può portare delle conferme in più per quanto riguarda i single questa venere proiettata sugli altri diventa anche simpatica per i colpi di fulmine e i divertimenti diciamo che in questa fase dovete uscire conoscere divertirvi e tutto quello che arriva non dovete forzare più di tanto le cose dovete imparare a rispettare anche i limiti e i tempi degli altri quindi se incontrate persone che magari non possono darvi al momento delle garanzie ma allo stesso tempo sono persone che vi piacciono e individuate in queste persone qualcosa di di bello da coltivare da preservare non siate caustici ma promuovete sempre qualcosa promuovete sempre questo tipo di rapporto però imparate a usare dei tempi diversi e rispettando anche i limiti degli altri quindi non mettete troppa carne al fuoco non bruciate soprattutto le tappe perché il rischio è quello passiamo al segno del sagittario che c'è da dire che nonostante le mazzate che continuino ad arrivare a destra e a sinistra con questi pianeti di transito nei pesci in questo momento il sagittario recupera leggermente un pochino di fiato è un recuperare però dal mio punto di vista almeno fino a quasi tutto marzo un recuperare apparente perché in questa fase il sagittario comunque deve fare i conti con tutto quello che non è andato secondo le aspettative si può parlare di rapporti di lavoro così come di questioni familiari rimasti in sospeso si pagano anche dei prezzi dei conti molto alti ed elevati anche in base al tipo di lavoro che avete fatto sul 2019 con questo giovane il segno se avete fatto il passo più lungo nella gamba se avete se vi siete impegnati a livello economico nel lavoro se avete gestito tutta una serie di questioni connesse alla casa o magari avete deciso di sponsorizzarvi a livello professionale cambiando completamente strategia ecco che adesso in questa fase il sagittario deve fare i conti con tutte quelle cose che mostrano però l'altra faccia della medaglia e quindi possono insorgere quelle che sono delle problematiche ci possono essere delle fuoriuscite di soldini che portano però la sensazione di avere sempre l'acqua alla gola la percezione di non di non riuscire a cavarsela poi magari all'ultimo trovano la situazione sbloccata trovano il colpo di fortuna l'aiuto il sostegno arriva però di fatto adesso il sagittario è chiamato proprio a mettere quella che è una toppa su quelli che sono i problemi connessi proprio a una gestione sbagliata del denaro o di quelle che pensava fossero delle opportunità e invece si sono rivelate tutt'altro quindi deve imparare in questa fase il sagittario mettendo sotto revisione alcune cose ma lavorando soprattutto sul suo atteggiamento perché quello che ha imparato il sagittario è che ci sono dei tempi di maturazione ben precisi da rispettare e che non bisogna forzare più di tanto le cose perché il sagittario essendo un segno di fuoco ed essendo anche un segno mobile di fatto la caratteristica principale del sagittario è quello di entrare a gamba tesa in una situazione ma poi si pagano le conseguenze così facendo quindi la prudenza è un atteggiamento che deve imparare ancora ad utilizzare il sagittario vi ripeto è una settimana che vi vede un po' più agevolati e che può portare anche di fatto delle delle soluzioni può agevolarvi anche nel trovare quelli che possono essere dei nuovi accordi che vi agevolano a livello professionale c'è un rendimento maggiore di quelle in base proprio al tipo di determinazione o di impegno che avete profuso nelle ultime settimane che può portare delle conferme soprattutto a inizio settimana quando la luna diventerà piena nel segno della vergine è una giornata tuttavia da prendere con le pinze soprattutto a livello emotivo perché è una giornata che incalza parecchio e che aumenta quella che è la posta in gioco tuttavia possono proprio prendere forma delle situazioni a livello proprio di lavoro così come in alcune conoscenze nei rapporti nelle collaborazioni che ti agevolano parecchio e che possono mettere una toppa a tutti quei problemi che ti stai trascinando dietro quindi la giornata è molto interessante chiedo scusa mentre invece le giornate di mercoledì e giovedì saranno molto utili per ricevere quella che è una notizia sbloccare quella che è una situazione che è rimasta in stand by e quindi nella comunicazione il flusso ritorna molto attivo così come potrai mettere in chiaro tu delle cose o avere le idee molto più chiare e trovare quella che è una soluzione prendendo una decisione molto importante ecco che in quelle giornate ci vedo proprio il raggiungimento di un obiettivo così come può arrivare una notizia che ti agevola parecchio anche a livello magari professionale se stai cercando di cambiare lavoro se mi raccomando tutti i cambiamenti in questa fase sono da prendere con le pinze perché o sono cambiamenti che dovete gestire scappando da una situazione quindi vabbè lì poi valuterete voi così come possono anche prendere di fatto forma delle situazioni che non vi piacciono nel lavoro e che vi invitano a cambiare però mi raccomando prima di attuare quello che è un cambiamento importante radicale usate tutti gli strumenti per difendervi e usate tutti gli strumenti anche per moderare quella che è la velocità cioè non chiudete dall'oggi al domani i capitoli perché il rischio è quello di passare ancora temporaneamente dalla padella nella braccia quindi mi raccomando ci sono delle situazioni che vi agevoleranno su aprile per ora a marzo è un mese marzo è ancora un mese abbastanza delicato ottimo invece la giornata di domenica sebbene le giornate di venerdì e sabato saranno un po' a livello energetico sono impegnative e portano comunque il bisogno di isolarsi di tagliare un po' i punti capire qual è la strada che stanno prendendo alcune cose alcuni rapporti alcune situazioni avrete tanto bisogno di chiarezza io con questo mercurio non riesco più a parlare e la chiederete in cambio quindi probabilmente in quelle giornate avrete le difese abbassate avrete bisogno di contatto di stare magari vicini a quelle persone che vi danno delle garanzie e allontanarvi a livello energetico e a livello fisico da tutto quello che invece non vi fa stare bene domenica invece sarà tutt'altra giornata grazie alla luna che rompe nel segno tutto torna nella vostra direzione potrete cambiare atteggiamento e riprendere in mano anche la vostra la vostra vita attraverso quello che è un nuovo punto di osservazione quindi cambierete atteggiamento ma cambierai anche modo di vedere le cose e troverai quella che è un'opportunità anche dietro a una cosa che in realtà non sembra un'occasione quindi la buona la giornata di domenica per quanto riguarda invece i rapporti sentimentali urano in congiunzione a venere nel sesto campo parla di una situazione sacrificata soprattutto per le coppie cioè in questa fase alcune questioni che arrivano dal mondo esterno e quindi si può parlare di famiglia di lavoro alcuni problemi connessi ai figli perché magari su febbraio si sono generate delle situazioni attraverso i figli particolari che hanno sottratto tempo di qualità ecco che adesso le coppie fanno i conti con tutte quelle situazioni che possono sottrarre tempo di qualità per sistemare altro quindi ora più che mai appena hai un momentino di tempo libero cerca di trascorrerlo cerca di trascorrerlo con il partner ma che sia un momento di qualità non importa la quantità quello che importa in questo momento è la qualità del rapporto per quanto riguarda invece il discorso single in questa fase li vedo un po' più penalizzati li vedo un po' più chiusi non si sentono ancora del tutto all'altezza ci sono delle situazioni che possono destabilizzare anche a livello improvviso magari si sentono pronti poi a un certo punto i single si chiudono e hanno come la percezione di non essere adeguati o i candidati non sono adeguati quindi ci sono delle situazioni che ancora sfuggono non è il momento perfetto per quanto riguarda i sentimenti ci sono delle grandi conferme che stanno per arrivare ma arriveranno su aprile per il momento se incontrate qualcuno che vi piace ma non vi dà ancora quella sicurezza quelle garanzie mettetelo lì non si sa mai non siate caustici vi potete tutt'al più divertire non è quello il problema perché poi può diventare qualcos'altro dopo nel corso delle settimane passiamo al segno del capricorno che è l'unico segno della settimana ma del momento che è più in vista ed è anche più alleggerito intanto venere dalla settimana scorsa è uscita dalla quadratura è per entrare nel segno del toro quindi il comune denominatore di questo momento astrologico per il capricorno è io ricomincio da me da me dai miei sogni dalle mie priorità dalle mie dalle mie ambizioni in questo momento il capricorno non solo si sta anche alleggerendo di saturno che entro la fine del mese dal 22 del mese entrerà nello spazio zodiacale dell'acquario ma inizia a intravedere quella che è la luce alla fine del tunnel c'è tuttavia la congiunzione di marte di giove nel segno c'è ancora questo mercurio che fino all'undici è retrogrado però io vedo un capricorno molto più determinato molto più convinto molto più fiducioso può anche può anche darsi che su febbraio alcuni rapporti alcune questioni si siano sgretolate e abbiano ancora dovuto gestire questi capricorno delle questioni rimaste in sospeso nei sentimenti e in alcuni rapporti o in alcune questioni professionali però adesso cambiano completamente le frequenze energetiche di questo cielo e ho come l'impressione guardando il vostro cielo che nonostante tutto magari il momento difficile che avete vissuto e che vi lasciate alle spalle adesso io vi vedo un po' in quella fase come dire sai che c'è è andata così ben venga cioè avete un cambiamento nell'atteggiamento siete molto più propositivi siete molto più fiduciosi e vedete l'opportunità dietro a cose che prima in realtà erano solo degli ostacoli quindi lo vedo un segno molto molto bello poi ognuno di noi ha una situazione personale in base al tipo di lavoro che ha fatto ci possono ancora essere dei capricorno che sono legati a il passato e non riescono a sbloccarsi di fatto adesso però si creano quelle condizioni che agevolano tantissimo il capricorno e che lo invitano a riprendere in mano la sua vita attraverso quelli che sono i sogni le ambizioni i progetti nuovi su cui ripartire e ricostruire anche sulle macerie sulle macerie di una vita che non c'è più questo è il comune denominatore oltretutto questa settimana con la luna che diventa piena nel segno della vergine si chiude un po' quel portale che si era aperto già verso la fine di febbraio con la luna nuova nel segno dei pesci e che ha aiutato di fatto questo capricorno a tracciare quella che è una rotta verso il cambiamento quindi siamo di fronte magari a un capricorno che sta riprogrammando e riprogettando quella che è una nuova vita attraverso un trasferimento ci sono alcuni nati del segno del capricorno che stanno pensando di trasferirsi o di cambiare semplicemente lavoro magari cambiando città valutando altre zone valutando altri ruoli professionali ecco che comunque questa luna che diventa piena da lunedì porta quella che è una conferma quindi mi raccomando mettetevi all'ascolto di quelli che possono essere gli impulsi di quelle che possono essere i consigli gli stimoli che arrivano in quella giornata mettetevi all'ascolto anche delle vostre emozioni perché lì io sono sicuro che arrivano dei segnali che sono pazzeschi e che vi aiutano a riprendere in mano la vostra vita poi può anche essere il raggio di sole lo sto guardando perché mi sta illuminando tipo tipo santo nella chiesa può anche essere un raggio di sole che vi risveglia e vi riconnette a un qualcosa e vi fa capire che state perdendo tempo da quella parte e che dovete andare dall'altra parte l'astrologia è anche questa però ripeto ora si creano quelle condizioni che vi permettono di riprendere in mano la vostra vita e ora più che mai l'invito è quello di usare anche però la prudenza perché Giove nel segno è un catalizzatore vi lancia quelle che sono delle opportunità vi mette sulla vostra strada delle occasioni il punto è che essendo un oscillatore più stabile questo Giove che avete nel segno non è tutto oro ciò che luccica e quindi non tutte le situazioni che possono sembrare delle opportunità poi si rivelano l'occasione della vita quindi mi raccomando cercate sempre bene di tracciare quella che è una nuova rotta ma anche di capire cosa veramente vi manca nella vita e come fare per raggiungerlo mettendo in sicurezza tutto poi io un piano B in tutto lo farei ma io per carattere poi se voi ve la sentite di puntare il tutto e per tutto su un unico numero alla roulette fate un po' come pensate bene di fare però io vi vedo molto molto positivi molto in vista in questa situazione le uniche due giornate da prendere con le pinze sono mercoledì la mezza giornata di giovedì la mattina del giovedì che possono creare ancora degli ostacoli poi venerdì e sabato sono giornate stupende che portano lo sblocco di un qualcosa possono arrivare delle notizie così come delle conferme interessanti che vi vedono magari a lavorare all'interno di un nuovo gruppo di lavoro in una nuova società ci sono delle richieste per colloqui potete candidarvi potete fare quelle che sono le vostre richieste e mettere in chiaro delle cose e poi siccome questa è una settimana decisamente bella energeticamente importante usate la domenica per rigenerarvi e magari staccare anche un po' quelli che sono i contatti con il mondo esterno perché potreste avere un sovraccarico di energia e quindi mi raccomando rigeneratevi sia per quanto riguarda il discorso fisico che il discorso mentale anche perché poi questo mercurio riprenderà il voto diretto dall'undici e quindi porterà anche una sorta di chiarezza interiore delle conferme interiori su quelle che sono le vostre garanzie e le necessità per quanto riguarda i rapporti sentimentali questa venere che è entrata nel segno del toro nel segno amico del toro che vi invita proprio a dire io oggi ricomincio da me agevola tantissimo i single negli incontri quindi mi raccomando in questa fase sfruttate queste correnti armoniche che vi invitano comunque a conoscere gente urano è connesso anche alla tecnologia quindi chat social media tutto quello che ha a che fare con il gruppo la condivisione può portare a farvi conoscere qualche persona che può avere l'ingrediente giusto per il vostro cuoricino per quanto riguarda le coppie questa venere può anche portare gravidanze sorprese nelle gravidanze se siete però dei capricorno maturi e non avete o non avete minimamente intenzione di mettere su famiglia questa venere parla di progettualità c'è un grandissimo bisogno di tornare a mettere degli stimoli nella coppia per riprendere quello che è un rapporto che magari si è adombrato sul mese di febbraio quindi mi raccomando c'è una grande ripresa in questo momento sfruttate più che potete queste correnti per andare e a legittimarvi verso nella vostra direzione verso quella che è una nuova vita da ricostruire parliamo del segno dell'acquario che in questa fase sta vivendo un momento di risveglio potentissimo un risveglio che lo riconnette a quelle che sono le necessità che appaiono soprattutto sotto forma di mancanze mancanze a livello affettivo mancanze a livello economico alcuni acquario si possono rendere conto in questa fase di aver dato troppo e di non aver ricevuto in cambio il giusto contributo e quindi anche nel lavoro ci sono delle situazioni che portano l'acquario a riflettere su quello che è il suo contributo su quello che deve essere il suo contributo c'è un abbinato a questo risveglio interiore che lo riconnette a quelle che sono le mancanze o a quelle che sono le garanzie che però appaiono sotto forma di mancanze che devono diventare delle necessità c'è anche da dire che in questa fase mercurio nel segno col moto retrograto almeno fino a mercoledì 11 può portare tutta ancora una serie di ripensamenti mettere sotto revisione alcune cose non avete ancora abbastanza le idee chiare io non vi vedo abbastanza pronti per fare il balzo in avanti anche perché c'è questa quadratura di venere in congiunzione a urano che può mettervi un po' di sfiducia detto questo però allo stesso tempo le situazioni planetarie che si stanno formando invitano l'acquario a guardare bene quali sono quei settori di vita che poggiano su una base instabile urano in quadratura abbinato alla congiunzione di venere vi fa riflettere proprio su questa instabilità che di tanto in tanto affiora nella vostra vita e che vi fa andare un po' in bilico come nelle sabbie mobili quindi abbinato a questo lavoro di risveglio accorgetevi dove sono le dove poggia la vostra vita quali sono quei settori di vita traballanti che devono essere rinforzati e in questa fase dal mio punto di vista dovete trovare dei nuovi alleati o persone che vi vogliono bene in grado di supportarvi emotivamente perché in questa fase siete anche molto fragili siete vulnerabili potete essere anche influenzati in questa fase quindi mi raccomando ora più che mai è importante trovare quelli che sono degli alleati la tribù una tribù di appartenenza per riconoscersi e vedere di trovare quella che è una soluzione cioè cercare di capire dove si stanno dove stanno non crollando delle strutture ma dove sta vacillando la struttura e come fare per rinforzarla questo vale nei rapporti familiari nei rapporti sentimentali nelle questioni professionali tutto tutto quello che ha a che fare con gli altri perché poi arriverà Saturno nel segno dalla fine di marzo e quando arriva Saturno nel segno farà proprio una stretta congiunzione una stretta quadratura con Urano e lì dovrai fare i conti l'acquario dovrà fare i conti con tutte quelle cose che sono costruite ma sono in bilico e quindi la struttura è a rischio di crollo pericolo crollo quindi non è nulla di preoccupante però quello che voi dovete fare in questa fase in questo momento è di osservare il più possibile aprire gli occhi su quei rapporti o in quelle situazioni o in quei progetti che non portano più garanzie o che sono a rischio di frana perché poggiano su una base troppo instabile a livello affettivo a livello professionale così come alcuni progetti se vi state rendendo conto che cercate di state andando praticamente controcorrente continuate a sforzare le cose le cose non vi vengono lì state facendo un errore quindi occhi aperti ma anche orecchie bene aperte poi in questa fase possono risvegliarsi oltre a riconnettervi con il mondo quello quello interiore quello delle mancanze possono anche risvegliarsi delle passioni in questa fase che vi parlano più che altro di vi riconnettono a un qualcosa di più spirituale possono accendersi in voi delle passioni che vi portano a frugugliare magari e a interessarvi o di una nuova religione o entrare a far parte di un nuovo gruppo un nuovo c'è proprio un bisogno di appartenere a una tribù a un gruppo e quindi ci vedo la religione ci vedo la spiritualità ci vedo un processo in corso che risveglia e vi riconnette a un qualcosa quindi questo è un po' il comune denominatore la settimana è molto interessante soprattutto nelle prime giornate fino a mercoledì barra giovedì calcola che lunedì con la luna piena nel segno della vergine può arrivare quella che è una conferma di natura economica o un aiuto inaspettato da parte di un parente che può portarvi quella che è la soluzione ci possono essere anche delle soluzioni in termini economici connessi alla casa se siete alla ricerca di un nuovo nido così come possono arrivare delle conferme se state aspettando la risposta da parte della banca per un mutuo un finanziamento ci sono tante soluzioni che possono arrivare con questa luna piena che si forma nella vergine io ci vedo i soldini ci vedo le questioni burocratiche se avete avuto dei problemi connessi alla casa alla ricerca della casa se volete sdisfarvi della vostra per andare da un'altra parte lunedì iniziano a prendere forma delle cose molto interessanti a livello interiore con lunedì si chiude quel portale che vi ha portato a viaggiare all'interno della vostra di voi e quindi a risvegliare quella parte interiore quindi avrete molto chiara la visuale su quello che è il futuro ma anche su quelli che sono i vostri limiti quali sono i vostri limiti e quindi lì andate poi a rinforzare quella struttura che vi dicevo le giornate poi la seconda giornata di martedì mercoledì e giovedì con il moto diretto di mercurio che riprende l'undici abbinato al transito della luna nel segno della bilancia sono giornate quelle che vanno dalla seconda metà di martedì fino alla prima parte di giovedì molto utili per ricevere quella che è una notizia una conferma uno spostamento per fare colloqui di lavoro se state pensando di iscrivervi a qualcosa ecco che sono giornate di risveglio notevole e che riattivano un po' la comunicazione venerdì e sabato sono giornate traballanti da prendere un po' con le pinze soprattutto nelle questioni che riguardano la casa il lavoro la famiglia quindi mi raccomando non siate troppo precipitosi e se potete fatevi un po' scivolare di dosso queste due giornate per poi ritrovare un po' più di serenità e un po' più di equilibrio sulla giornata di domenica nelle relazioni in questo momento la quadratura di venere può portare un bisogno tangibile di protezione che porta naturalmente le coppie se stanno bene a proteggersi a stare insieme a sentirsi uniti c'è proprio un bisogno di famiglia c'è un bisogno di molto concreto di avere nutrimento da parte emozionale naturalmente da parte di quelle persone che ruotano attorno alla famiglia un familiare un partner c'è bisogno di protezione perché avrete con questa quadratura c'è la possibilità di esporvi troppo a livello emotivo e quindi siete molto fragili e quindi la cura e la soluzione è quella di stringervi in gruppo e trovare un riparo emozionale le coppie fragili in crisi in bilico con questa quadratura di venere associata alla congiunzione con urano possono subire quello che è temporaneamente un contraccolpo e quindi ci sono alcuni nati del segno che possono valutare e pensare già con questa settimana a prendersi quella che è una pausa di riflessione abbinata proprio anche al transito ritorno di mercurio retrogrado nel segno i single non sono molto per la quale quindi in questa fase non si sentono pronti non hanno voglia non sono sbogliati non pensano a tutt'altro quindi e anche qualora dovessero trovare una persona interessante possono perdere di interesse strada facendo molto facilmente quindi al momento non posso darvi garanzie per voi single quindi divertitevi e puntate meno sui divertimenti ci sarà modo di divertirsi da da aprile in avanti parliamo del segno dei pesci che è ancora nella sua fase di compleanno quando io ripeto sempre quando arriva il sole nel segno prima di smuovere mari e monti bisognerebbe lasciare passare completamente e finire questa ricarica solare che finirà il 20 di marzo quando il sole entrerà nel segno dell'ariete avviando non solo la primavera ma la seconda parte del tuo viaggio astrologico quindi già da questa settimana però il fatto che la luna diventi nuova diventi piena in opposizione segna quella che è un po' la fine della ricarica e l'inizio dei giochi ed è lì che proprio da questa settimana possono arrivare delle conferme possono prendere forma delle conferme notevoli attraverso quelle che sono dei viaggi degli spostamenti delle conoscenze dei rapporti di lavoro ma anche a livello interpersonale delle conoscenze arrivano delle conferme che aprono nuovi capitoli di vita molto interessanti questa è una settimana che dà un bel calcio d'inizio a un qualcosa di molto bello e che porta concretezza nella vostra vita e ne avete tanto bisogno l'unico problema è che mercurio nel segno alle spalle sarà in moto retrogrado fino a mercoledì 11 quando l'11 di marzo quindi mercoledì riprenderà il moto diretto sicuramente vivrete quello che è anche un rilascio di quelle che possono essere le comunicazioni se siete in attesa di un mutuo di un prestito se state pensando di cambiare lavoro di cambiare casa se state valutando quello che è un trasferimento avrete delle notizie che ritornano e riprendono il flusso normale tuttavia questo mercurio fino al 16 di marzo resta nel segno alle spalle e quindi può ancora generare di tanto in tanto dei rimpianti delle situazioni che non vi tornano che non vi convincono più di tanto quindi per il momento io se fossi in voi non premerei così tanto sull'acceleratore nel senso che potreste ancora cambiare idea o potreste ancora vedere magari o avere ricevere poi delle conferme su marzo su marzo inoltrato che vi portano esattamente la risposta opposta rispetto a quella che avete oggi quindi mi raccomando potreste ancora cambiare idea o rendervi conto strada facendo che quello che state facendo ora in realtà va migliorato andrebbe gestito in un altro modo quindi mi raccomando comunque questa è una settimana che porta decisamente delle conferme ci sono delle opportunità molto interessanti che prendono forma e che proprio sei uno dei più forti questa settimana quindi mi raccomando sebbene domenica sarà una giornata ancora un po' rognosetta però di fatto è una settimana che vi vede agili scattanti pronti calcolate che proprio tra martedì nella seconda metà di martedì mercoledì e parte del giovedì possono arrivare delle soluzioni molto interessanti a livello burocratico trovare delle agevolazioni anche a livello economico ci sono delle questioni che prendono forma e che vi aiutano a mettere una toppa poi le giornate più belle sono quelle di lunedì con la luna piena in opposizione che si forma nella vergine e le giornate di venerdì e sabato che portano delle notizie degli spostamenti degli incontri molto molto interessanti per quanto riguarda devo farvi però due cose ancora devo dirvi due cose allora nelle amicizie nei gruppi condivisi a livello di società a livello di insomma nei gruppi condivisi così come nei progetti a livello professionale eccetera eccetera ma anche nelle amicizie quelle semplici possono esserci delle situazioni in essere che non ti piacciono quindi sfrutta queste correnti di questa settimana che si formano in maniera positiva e quindi la giornata di lunedì così come le giornate di venerdì e sabato per mettere in chiaro se ci sono delle perplessità da parte tua quelle che sono le tue le tue perplessità non tenerti tutto dentro vuota il sacco perché poi è peggio perché questo Marte che tu hai in transito nell'undicesimo campo è il Marte dei mafiosi quindi mi raccomando onde evitare di crearsi poi dei problemi più avanti non tenetevi tutto dentro in questo momento dite proprio le cose come stanno usando anche magari un pizzichino di diplomazia non sarebbe male però nelle amicizie se pensate di aver subito quello che è un'ingiustizia un torto così come nei rapporti di lavoro nei gruppi se state lavorando a un progetto mettete un po' in chiaro delle cose che male non fa poi per quanto invece riguarda le relazioni questo è un momento molto bello per le coppie si parla di nuovi incentivi nuovi stimoli ma anche il desiderio magari di trasferirsi da qualche parte fare progetti nuovi su quelli che possono essere fantasticare su quelli che possono essere i progetti importanti nuovi ci può essere un trasloco ci può essere anche l'acquisto magari di una nuova autovettura o di strumenti elettronici anche per abbellire la casa ci possono possono anche esserci dei lavori di ristrutturazione anche se io ci vedo più magari l'abbellimento attraverso quelli che sono delle degli acquisti a livello informatico la casa o un trasloco da organizzare che creano però di fatto il combustibile giusto per le coppie che vi porta a stare più uniti più vicini a trovare dei punti di incontro molto interessanti che parlano di progettualità per quanto invece riguarda il discorso single non chiudetevi in casa in questo momento perché ci sono ottime opportunità per fare degli incontri interessanti e che portano delle garanzie nel corso del prossimo futuro e con questo è tutto io vi auguro una splendida settimana stellare ciao ciao